Voi siete due dipendenti del Canile Mille Musi e non percepite stipendio da quando? Praticamente il Comune ha erogato l'ultima fattura pagando il mese di gennaio, in più ha dato un piccolo anticipo di febbraio pari a 29.000 euro o qualcosa del genere. Dunque noi non recepiamo lo stipendio dal mese di gennaio. Quindi dal mese di febbraio nessuno percepisce stipendio e si va avanti con le donazioni per garantire l'alimentazione ai cani? Sicuramente noi diamo la precedenza anche in accordo con i dipendenti, diamo la precedenza ai cani che non possono sicuramente non avere il cibo giornaliero, non avere la pulizia necessaria o le cure necessarie. La situazione è diventata tragica nel senso che i dipendenti hanno grossissime difficoltà anche a venire a lavorare. Noi continuiamo a salire perché là la mattina ci aspetta Teresa, ci aspetta Golia, ci aspetta Gici, ci aspetta Bucci e tutti gli altri 400 cani che sono là, i quali la mattina guardano noi e da noi chiedono una spiegazione. Ecco perché stiamo continuando al di là dell'interesse personale a salire. I cani chiedono una spiegazione ma anche le vostre famiglie chiedono una spiegazione di questo anno? Le nostre famiglie è stato un periodo duro, si sono fatte delle rinunce da quello che poteva essere il convitto, agli sport e a questo ora siamo arrivati ai beni di prima necessità. C'è chi non può comprare la bombola, chi può continuare a mettere la benzina per salire e quant'altro. Quanti dipendenti ha il Canile Mille Musi? Il Canile Mille Musi ha sei dipendenti e naturalmente l'attività viene fatta dai dipendenti e dai volontari che non percepiscono nulla. Oggi siete qui lavoratori, volontari, lei che è il commissario per chiedere risposte all'assessoria dell'acqua. Che cosa vi è stato detto? Noi chiediamo delle certezze, chiediamo che innanzitutto venga quantomeno fatto un acconto immediato fino a giugno del 2016. Chiediamo che i dipendenti possano capire qual è il loro futuro. Vorremmo sapere cosa intende il proprietario dei cani, cioè il sindaco, cosa intende fare con questi cani.